Anche quest'anno la Sovrintendenza Capitolina aderisce alla Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si celebra il 3 dicembre. Sono previsti percorsi tattili e sensoriali per persone ipovedenti e non vedenti, visite con Interprete Liss e nuove pubblicazioni sulle pagine web dedicate all'accessibilità dei musei capitolini. Le attività proposte sono aperte a grandi e piccoli. Programma, visite e info su museincomuneroma.it e 060608 tutti i giorni dalle 9 alle 19. Grazie per la visione!